Gli sponsor principali che pagano un milione di dollari riceveranno una cena. Un post su Facebook e spazio per due dozzine, per godersi la festa lodando Meghan Markle all'evento MS Foundation di domani. La sfarzosa festa dei premi di New York, in onore di Meghan Markle, martedì chiede un milione di dollari alle aziende che desiderano essere sponsor principali. Per l'incredibile quantità di denaro, i marchi riceveranno solo un post promozionale su Facebook e l'accesso, per solo due dozzine di persone, tra gli altri vantaggi. L'ex attrice di Suits riceverà il premio Woman of Vision 2023 al gala annuale della MS Foundation, all'interno della sala da ballo Ziegfeld della città. Meghan sta ricevendo il premio per la sua difesa globale per potenziare e difendere a nome di donne e ragazze dal co-fondatore della fondazione. In vista della cerimonia di domani, Express.co.uk ha esplorato alcuni dei pacchetti di sponsorizzazione disponibili durante la prestigiosa cerimonia. Per un milione di dollari, le aziende avranno accesso a due tavoli di prestigio all'interno della sede. Il biglietto a sette cifre consentirà l'ingresso a 24 persone, e darà loro accesso alla cena di gala, ricevimento, e after party. Altri vantaggi eleganti includono un presentato dalla quotazione, i capi dell'azienda potranno anche parlare all'evento. Riceveranno anche un cartello da tavolo che include il nome e il logo della loro azienda, oltre all'accesso alle fotografie del tappeto rosso con Gloria Steinem. Gli sponsor principali ricevono anche il check-in rapido.